Il polpo è uno degli animali di mare che a me davvero entusiasma molto è la pesca più bella che abbia mai fatto in vita mia tirare su un polpo è stata per me una emozione indescrivibile sicuramente il polpo va cotto a bassa temperatura non deve mai bollire deve cucinarsi per un paio di ore poi lasciarsi nel suo brodo con un po' di alloro, un po' di verdure dentro il polpo se è buono appena pescato va mangiato così come che sta in una insalata magari a fresco è già buono di per sé a me piace molto invece il pollo glassato quindi prendi il polpo, lo glassi un attimo e poi lo metti sopra una crema di porro e patata è della morte sua secondo me dico la glassa perché il polpo dunque sa però il polpo se è estratto da solo ha bisogno di un attimo di gusto per esaltare il gusto stesso del polpo questa insomma dire però un saluto da Pistoia la città della cultura italiana del 2017 ciao Grazie a tutti.